Sono veloci come sono io col computer. Uè, non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR. Clicca in basso a destra, sul tasto, supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! DEL DIO SANTO DEL DIO! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Qua nell'angolino c'è l'occhio! Lì nell'angolino ragazzi dove mi stai seguendo sto testa di cazzo! E dove mi stai seguendo quest'altra merda! C'è l'occhio del coso da andare a prendere per le sfide della settimana numero 2000! Qua nell'angolo ragazzi! Una volta che avrete preso l'occhio che si trova lì, dovete percorrere la strada! Dovete sparare! Dovete percorrere la strada ragazzi, andare dritti! Per la strada arrivare al cartellone che vi dice benvenuti alla città qua a polveriera! Come cazzo si chiama? Pandora! Dove troverete nella base il robottino! Diciamo che l'occhio era dietro lì nella casa in fondo! Noi proseguiamo da qua ragazzi! Proseguiamo da qua! Riusciamo ad uscire da questo bordello! E raggiungendo quel cartello che si trova là avanti vedremo il robottino! Gli consegniamo l'occhio e ce la portiamo a casa! Ce la stiamo per fare! Ce la stiamo per fare! Non so dov'è il cartello ma lo sto per raggiungere! Il cartello è quello là davanti ragazzi! Dove c'è il logo delle sfide presenti da oggi alle 15! Ragazzi ci sto per andare! Ci sto per arrivare! Ci sono quasi arrivato! Lo vedete il robottino? Anche se non riuscisse a consegnarlo comunque lo state vedendo! Mi sta già salutando il tiazio! La tua madre! Quella stronza! Comunque il robottino è lì ragazzi! Mi raccomando! Consegnategli l'occhio e portatevi a casa la sfida! Io vi ringrazio per aver guardato questo video! Noi siamo in live! Ciao! Ciao!